Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale, oggi presentiamo un bel saggio appena pubblicato da Salerno Editrice dal titolo Trebisonda, l'impero incontato tra storia e leggenda di Tommaso Braccini che abbiamo un grande piacere di avere il nostro ospite al quale come mia abitudine io lascio subito la parola perché ci parli di questo impero incantato, prego a lei. Allora grazie, grazie mille intanto dell'invito e bentrovati, bentrovati. Trebisonda, se noi chiedessimo come dire a una persona qualsiasi cosa gli evoca questo nome probabilmente risponderebbe un modo di dire, perdere la Trebisonda, che vuol dire perdere un po' il lume, non perdere la Trebisonda, non perdere la testa, ecco sinceramente vuol dire. Per noi italiani probabilmente questa è la menzione più immediata. Da dove viene? Ecco, è qui, è da questa domanda che si può partire anche per raccontare, per spiegare un po' cosa c'è in questo libro. Viene da un mito, una leggenda, una leggenda che nasce nel Medioevo, poi si diffonde nell'età moderna, i romanzi, i romanzi cavallereschi, canzoni per così dire epiche che riguardano questo luogo dell'Oriente, perché è una città, è una città dell'Oriente, è una sede di un impero, corrisponde all'attuale Trabzon in Turchia, quindi siamo sul Mar Nero, quello che all'epoca era una landa lontanissima, misteriosa, esotica, era la sede, ripeto, di un impero, un impero di chi? Un piccolissimo impero greco, gestito, portato avanti da una dinastia bizantina e diventa appunto al centro di tutta una serie di romanzi, di racconti, di avventure che vedono protagonisti, cavalieri, che si disputano o l'impero di Trebisonda o lo frequentano, tutte cose molto fantasiose, molto inverosimili, assolutamente non storiche, però molto molto presenti e quindi questo nome di Trebisonda che ricorreva continuamente, veniva detto appunto come il luogo immaginifico, orientale, lontanissimo, alla fine anche in maniera un po' scherzosa viene preso a sinonimo appunto di intanto di Città dei Marti, perché anche era diffuso anche appunto anche quest'uso e poi viene adottato per questa espressione perdere la Trebisonda nel senso appunto perdere in qualche misura la testa. Questo è l'italiano, per dire ci sono altre lingue come lo spagnolo dove trapisonda vuol dire zuffa o rissa, ma perché? Perché in questi romanzi cavaliereschi ambientati in questa Trebisonda immaginaria spesso ovviamente i cavalieri si sfidavano, giostre e quant'altro e quindi in quel caso questo nome così sonoro, un strano roboante era diventato sinonimo di zuffa, ma deriva più o meno da questo, cioè dall'esistenza di un impero in questo posto così lontano ed esotico in pratica. Questo è in estrema sintesi insomma potremmo dire che è il nucleo di partenza di questo libro. Mi dica lei se posso raccontare un pochino. Eh sì, adesso volevo capire come si sviluppa il libro. Eh certo, giustamente. Beh, allora il libro parte dall'inizio sostanzialmente, ovvero dall'origine di questa città, perché l'origine è molto molto antica, è una colonia greca. I greci erano arrivati anche nel Barnero e quindi a un certo punto fondano varie città andando sempre più a est e da una di queste città che si chiama Sinope, a un certo punto partono i decolonizzatori che appunto si dirigono verso Oriente e fondano sul mare naturalmente un'altra colonia, un altro centro, ehm che si chiama Trapezunte, Trapezunte. Perché Trapezunte? Perché trapeza in greco vuol dire tavola, tavola, e la città in effetti era fondata su una sorta di eh alto piano, piccolo altopiano, un tavolato che dava sul mare. Ecco, quindi questa è l'origine diciamo della città, una colonia greca, mh un po' defilata, quello è vero, però diciamo già all'epoca ha una certa importanza come centro commerciale, eh perché appunto mh è un porto innanzitutto e da questo porto eh prendono via dei per un percorso sostanzialmente che va verso l'interno dell'Anatolia, ehm superando un valico di montagna molto aspro e e quindi diventa un terminal commerciale. Per dire Senofonte eh nella nella Nabasi eh quindi il testo nel quale racconta come lui e gli altri diecimila mercenari greci riescono a fuggire dalla Persia allontanandosi facendo questo lungo percorso a piedi verso il mare, verso la Grecia, ecco racconta di come lui e diecimila dopo questa marcia infinita dove devono combattere, succedono di tutti i colori, alla fine raggiungeranno il mare con il famoso grido talas, talas, amare, mare, lo raggiungono dove? A Trebisonda, nelle vicinanze di Trapezunte, di questa antica città greca che poi appunto nel Medioevo eh prende il nome in italiano di Trebisonda, quindi Trapezunte e Trebisonda sono la stessa cosa. Naturalmente ehm c'è una serie di passaggi intermedi che vengono raccontati in questo libro, ovvero questa città poi dalla città greca confluisce nell'impero romano e poi dall'impero romano passa naturalmente all'interno dell'impero bizantino eh dove diventa una sede provinciale, un capoluogo provinciale di un certo di una certa importanza ma ehm già ripeto in epoca bizantina si segnala per delle tendenze autonomiste perché è molto ai margini dell'impero e al confine al confine est e ci sono mh in più di un caso personaggi nobili, famiglie famiglie nobili che cercano di ritagliarsi un proprio feudo in questa Trebisonda eh o viene usata anche un po' come luogo eh di relegazione eh quindi personaggi scomodi alla fine ci vengono vengono inviati lì proprio perché è molto lontano. Cosa succede? Eh che tra l'altro appunto diventa a un certo punto anche la residenza proprio perché è così lontana e marginale questa regione nella quale è situata Trebisonda diventa la residenza di un personaggio scomodissimo che si chiama Andronico Comneno eh e che è imparentato con un imperatore che regna nel dodicesimo secolo a Bisanzio che si chiama Manuele Comneno quindi insomma già e diciamo il cognome fa capire che erano imparentati ed è la bestia nera. Andronico è la bestia nera di dell'imperatore Emanuele perché cospira contro di lui eh ha un grande seguito perché è molto carismatico è un donnaiolo e quindi fa eh come racconto insomma questo libro fa impazzire il povero Emanuele perché li seduciano dopo l'altra tutta una serie di 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 congiunte e quindi Emanuele non lo sopporta lo vorrebbe far uccidere ma questo scappa continuamente da tutte le parti insomma alla fine Andronico risiede per per vari anni in questa regione nella regione Trebisonda e poi alla fine riesce a conquistare il trono quindi diventerà lui l'imperatore a Costantinopoli eh un regno molto breve siamo nel alla fine del dodicesimo secolo eh e poi ehm i suoi comportamenti tirannici per così dire gli eh mettono contro parte dell'aristocrazia c'è una rivolta e Andronico Comneno viene ammazzato in maniera orribile particolarmente ripilante e eh viene accecato per esempio anche anche un suo figlio eccetera eccetera cosa succede che in questo parapiglia in questo questa insurrezione che porta alla deposizione di Andronico Comneno ehm due suoi nipoti quindi figli del figlio che si chiamavano Davide e Alessio riescono non si sa bene qui come siano andate le cose però insomma riescono a salvarsi e ehm finiscono questi due ragazzi eh nipoti di questo imperatore assassinato ehm finiscono per approdare Alessio e Davide alla corte di una zia che si chiamava Tamara ed era la regina della Georgia la Georgia appunto ancora oggi è eh uno stato che si affaccia sul Mar Nero all'estremità orientale questi due ragazzi vengono vanno lì eh arrivano lì in circostanze non ben chiare eh passa qualche anno nel 1204 c'è una catastrofe perché i crociati della quarta crociata eh e i veneziani che li trasportano alla fine insomma riescono a conquistare Costantinopoli sfruttando dissidi interni tra tra l'imperatore insomma eh dell'epoca quindi l'impero bizantino finisce nel sprofonda nel caos nel 1204 e proprio approfittando di questo caos ehm poco prima proprio di questa conquista di Costantinopoli dalla Georgia parte un contingente di truppe eh che vedono alla loro testa proprio questi due ragazzi Alessio e Davide che si erano salvati bambini dal massacro del nonno e dei familiari una qualche anno prima per così dire questi due ragazzi alla testa di queste truppe entrano nell'impero bizantino che è totalmente sconvolto appunto sta cadendo a pezzi e conquistano la regione di Trebisonda e nella prima fase riescono ad arrivare anche molto più a ovest cercando di avvicinarsi a Costantinopoli il loro intento sarebbe stato quello di riprenderla poi non ci riusciranno mai però sostanzialmente Trebisonda è una fascia costiera lungo il Mar Nero riescono a prenderla e eh vi insediano il proprio stato vi insedono il proprio stato rivendicando il titolo imperiale questi due giovani perché erano nipoti appunto di questo imperatore andronico comneno quindi fondano un impero avendo le pretese di essere i legittimi imperatori bizantini perché l'imperatore bizantino non c'era più perché Costantinopoli era stata conquistata dai crociati quindi viene fondato questo questo impero che durerà molto a lungo certo meno di quello bizantino che dura mille anni però dura comunque fino al 1461 quindi 1204 1461 è la parabola del cosiddetto impero di Trebisonda che vedrà sempre sul trono i discendenti di eh di Alessio perché Davide l'altro fratello muore abbastanza presto vedrà sul trono i discendenti di Alessio e quindi anche di Andronico eh che assumono il diciamo il cognome dinastico di Gran Comneni Gran Comneni non Comnene basta ma Gran Comneni perché Gran Comneni perché eh diciamo erano in tanti che rivendicavano il cognome di Comneno per via magari di matrimoni di parentele ehm spesso come dire usava già all'epoca ehm magari da parte degli aristocratici sfoggiare tre quattro cinque sei cognomi tutti insieme ovviamente per eh mettere in mostra le proprie parentele altolocate ecco ma mentre tutti gli altri erano Comneni ma solo per via traverse no per magari discendenza femminile quant'altro questi invece eh lo erano eh al cento per cento e potevano vantare una discendenza effettiva da Andronico che ripeto eh era stato ucciso come un tiranno ma eh i suoi familiari continuavano invece a venerare come una figura molto importante per questo ripeto loro assumono il nome di Gran Comneni Gran Comneni eh nel libro ehm ovviamente eh non è che eh viene trattato nel minimo dettaglio tutto quello che succede in 261 anni però diciamo gli elementi più importanti anche con un occhio di riguardo verso l'Italia per esempio che avrà dei rapporti oggi pressoché dimenticati ma in realtà abbastanza stretti rapporti commerciali ma anche culturali con l'imperio Trebisonda ecco gli avvenimenti più importanti ci sono le figure più importanti e sempre insomma cercato con un occhio di riguardo anche per la realtà dei luoghi perché Trebisonda c'è ancora appunto eh chi vuole può andare a visitare la Turchia e ci sono dei monumenti ancora oggi molto interessanti poco noti purtroppo ma molto molto interessanti che risalgono proprio a quest'epoca nella quale Trebisonda è un impero ed è un impero piccolo perché è piuttosto piccolo eh ma molto ricco questa diciamo è un po' ehm ehm l'elemento che lo rende particolarmente rilevante perché poi da questa ricchezza vengono fuori tante cose vengono fuori edifici per esempio eh questi gran conneni ovviamente ehm che continuano sempre a vagheggiare Costantinopoli no è un po' il loro eh paradiso perduto realmente la vedono proprio così eh cercheranno ovviamente di abbellire il loro capitale quindi con chiese per esempio costruiscono una loro Santa Sofia un po' fuori da Trebisondo all'epoca era un paio di chilometri diciamo fuori eh però appunto era una chiesa molto importante e c'è ancora oggi e da quello che era che è restato a quello che si vede ehm si vede il grande gusto eh il grande dispendio anche proprio di di denaro di risorse che era stato profuso per costruire questa chiesa e anche di influssi interessanti perché è una chiesa da un lato chiaramente bizantina eh ma dall'altro ci sono influssi caucasici per esempio georgiani nell'architettura nella struttura ci sono dei porticati quindi si vede che questo è un luogo un po' di passaggio perché si trova proprio a crocevia tra eh il caucaso da una parte eh l'Anatolia che sostanzialmente in mano eh purca eh a sud eh a ovest molto lontano ovest e poi c'è il Costantinopoli e nel porto e Trebisonda arrivano mercanti da tutto il mondo compreso Genova e Venezia che hanno dei rapporti molto stretti spesso conflittuali però ce li hanno quindi viene costruita questa Santa Sofia racconto insomma brevemente nel libro eh quello che si può vedere a freschi ci sono degli affreschi bellissimi con questi voli d'angeli particolarissimi ehm racconto anche appunto altre opere d'arte che si possono vedere o si potevano vedere a Trebisonda tra cui appunto una serie di raffigurazioni che ricorrono eh per esempio della cacciata dal paradiso terrestre che è un elemento strano no? Rilievi in città in più di un luogo che raffiguravano Adamo e Deva cacciate dal paradiso terrestre si è detto perché no? Eh c'era questo motivo questa sorta di emblema che ricorreva in giro per Trebisonda eh la risposta è proprio quella che eh questa dinastia dei Gran Comneni eh ricordava appunto come fosse stata cacciata da Costantinopoli e ovviamente vagheggiava di ritornarci mh e quindi appunto anche con una serie di screzzi di frizioni con gli imperatori bizantini che poi dal 1261 rioccupano eh Costantinopoli e risiedono sul trono di Costantinopoli e quindi ci sono due due imperatori sostanzialmente per eh per un paio di secoli in concomitanti. Quello l'imperatore di Costantinopoli diciamo eh recupera l'esperienza dell'imperio bizantino a partire da Michele VIII paleologo che come dire fonda questa nuova dinastia e Gran Comneni a Trebisonda che eh sono molto lontani ma eh continuerebbero ripeto ad aspirare loro a questo ruolo essendo anche molto più nobili eh perché appunto eh da questo punto di riviste paleologi sono un po' dei parvenu mentre per quanto insomma fosse una famiglia ragguardevole ma rispetto a Comneni non era nulla e invece i Comneni eh vantano molto questa loro prosatia questo questo loro sangue. Alla fine poi ci saranno ovviamente anche delle alleanze matrimoniali tra paleologi e Comneni e che però appunto eh rimarranno signori di due eh stati diciamo di due di due imperi distinti. Ehm dicevamo appunto anche eh opere d'arte, costruzioni eh per esempio appunto racconto come un altro elemento che ancora oggi si può vedere ehm è quello eh dei monasteri quindi questi eh imperatori Gran Comneni eh sono dei mecenati appunto e ehm fondano o riempiono di donazioni, terre e quant'altro, una serie di monasteri, alcuni monasteri eh dispersi eh nelle montagne a sud di Trebisonda, queste cosiddette Alpi Pontiche, cioè le Alpi del Ponto, il Ponto è il Mar Nero, Ponto è Usino, no? In greco il mare ospitale. Si chiamano Alpi Pontiche queste montagne che sono montagne molto impervie, difficili da avvalicare eh però verdissime perché poi mh la nebbia eh le perturbazioni che arrivano dal mare si fermano contro queste montagne, piove spessissimo, piove sempre, quindi ripeto, vegetazione lussureggiante ancora oggi eh ma molto difficile da da trepassare questa catena montuosa, ecco lungo la strada che si inerpicava per questi Alpi Pontiche le varcava andando poi verso l'Anatolia e poi ancora verso la Persia e quant'altro fanno, costruiscono, fondano una serie di monasteri che servono anche da centri di controllo ehm per così dire da ospizi magari per i viaggiatori hanno hanno tanti ruoli e mh questi monasteri sono rimasti in funzione fino agli anni venti del secolo scorso, fino al millenovecento ventitré in genere, quando poi c'è stato lo scambio di popolazioni tra Grecia e Turchia, una cosa molto dolorosa per entrambe le parti, sostanzialmente c'è stata appunto questa sorta di eh deturchizzazione eh della Grecia e degrecizzazione della Turchia per cui i turchi che vivevano in Grecia sono stati spinti diciamo in Turchia e viceversa e quindi questi monasteri da allora sono rimasti abbandonati. Quali sono? Beh ne dico uno poi insomma appunto nel libro fornisco i dettagli su Melà, su Melà, nome che non ci dice niente magari, però è stata chiamata la Monte Cassino d'Oriente eh perché ripeto è stato un centro ehm anche commerciale ma soprattutto culturale importantissimo eh monastero incastonato in una parete rocciosa all'interno di una grotta che si apriva in un costone di un monte quindi è pittoresco ai massimi livelli eh e che ripeto per secoli e secoli ha ospitato una comunità monastica molto importante con libri, opere d'arte, un'icona veneratissima e quant'altro. Ecco questo monastero alla fine è stato restaurato e oggi da pochissimi anni ecco ehm è nuovamente visitabile ed è effettivamente una delle attrazioni turistiche insomma se così vogliamo dire più importante dell'area del ponto cioè della 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 costa anatolica diciamo del del Mar Nero e questo è ancora visibile su Melà eh effettivamente e questo ripeto è piuttosto piuttosto rilevante. Certo è ripeto ehm che ehm come come dicevo anche prima e come racconto i rapporti con Genova e Venezia sono rapporti invece da quel punto di vista molto altalenanti ehm per tanti motivi intanto perché c'è eh ci sono interessi commerciali eh genovesi e veneziani hanno tutto l'interesse a ottenere eh condizioni sempre migliori da questi imperatori di Trebisonda a pagare meno tasse, meno dazzi eh ottenere delle basi eh gli imperatori di Trebisonda a loro volta hanno hanno tutto l'interesse eh a favorire il commercio perché è da questo commercio che hanno poi i fondi che gli servono per costruire, fare, mantenere tupio, una corte eccetera eccetera però senza cedere troppo e quindi insomma è una storia vecchia come il mondo questa qui. Ci sono anche proprio degli scontri, degli scontri ehm con Venezia e soprattutto con Genova eh Trebisonda ha rapporti più stretti con alla fin fine si può dire rapporti più stretti con Genova. I genovesi hanno una base molto grande proprio eh nelle nei pressi Trebisonda che dà direttamente sul mare, si chiama Leonto Castro, il castello del Leone, no? Questo nome insomma che questo evoca atmosfere cavalleresche e spesso ci sono degli scontri molto molto accesi per motivi appunto eh puramente commerciali. C'è anche proprio una eh una narrazione leggendaria ehm che a Genova era eh insomma abbastanza abbastanza nota eh che tratta di questi scontri. Quella di che parla di un capitano diciamo un mercante eh capitano di nave che si chiamava Megollo eh e poi qui ho amici genovesi che me lo pronunciano in tutti e due modi quindi io non ho ancora capito se è Lercari o Lercari comunque diciamo Lercari e questo questo mercante diventa un favorito diciamo dell'imperatore Trebisonda ma suscita grandi gelosie a corte e alla fine si racconta che un altro cortigiano un greco eh lo prende a schiaffi in presenza appunto del della corte di tutti gli altri. Questo Megollo si infuria eh chiaramente non ottiene soddisfazione da parte dell'imperatore che pergiversa insomma non si vuole mettere contro quest'altro cortigiano che si chiama Andronico e che ha tirato uno schiaffo a questo genovese e allora Megollo torna a Genova eh recluta eh una serie di 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 marinai e di compagni e poi torna nel Mar Nero e inizia a taglieggiare ehm le navi dell'impero Trebisonda. Le taglieggia, le catture, diventa un corsaro eh per capirsi. Le catture e tutti i greci che ci trovano, i trapezuntini, gli abitanti Trebisonda che ci trova sopra racconta la storia, la leggenda ehm tutti gli abitanti che trova su queste navi taglia le orecchie e il naso che mette in barili sotto sale. Poi un bel giorno quando ha riempito vari barili dei nasi e delle orecchie degli abitanti Trebisonda che lui ha catturato su queste navi nelle sue attività da corsaro ecco prende questi barili e li manda all'imperatore e questo a quel punto insomma vede questa li apre, vede quello che c'è dentro, rimane sconvolto e allora dice no, questa non è possibile, basta veniamo a patti con questo Megollo perché non riusciamo ovviamente a ad avere la meglio su di lui. E lui a quel punto si fa portare davanti questo Andronico che l'aveva preso a schiaffi e eh Andronico piange disperato dice crede che l'ammazzerà a quel punto e invece Megollo dice no no vattene eh noi genovesi non ce la prendiamo con le donne no? Quindi insulta questo suo avversario dandoli appunto del eh del poco diciamo poco virile e poi a quel punto ottiene viene ricompensato e ottiene una serie di vantaggi e pensate appunto che ehm sulla facciata del palazzo eh l'Ercari Parodi in via Garibaldi a Genova ancora oggi accanto al portale ci sono questi due queste due statue che reggono questi due telamoni quindi statue maschili eh che reggono la struttura e mh e che hanno i nasi tagliati si dice in memoria di questo Megollo in realtà sembra che sia una leggenda ma è una leggenda però che rispecchia la verità cioè il fatto che c'erano degli scontri commerciali molto reali molto concreti solo scontri? No sicuramente no tant'è che eh verso negli ultimi anni eh dell'impero Trebisonda siamo nel quattrocento inoltrato eh quando oramai insomma la situazione stava diventando pericolosa perché c'era l'impero ottomano che si espandeva e si capiva che eh insomma presto ci sarebbe stato l'ennesimo tentativo di conquista e gli imperatori Trebisonda l'imperatore dell'epoca cerca di ehm di far sposare suo figlio con la figlia del doge di allora di Genova eh manda un'ambasceria a Genova documentato il doge di allora era Ludovico Campofregoso e ci sono una serie trattative che erano andate anche abbastanza avanti insomma sembrava che eh il figlio dell'imperatore Trebisonda dovesse sposare questa ragazzetta ragazzina che si amava Catalinetta e che era la figlia di Ludovico Campofregoso quindi lui insomma nel doge di di Genova organizza tutto per mandare questi ambasciatori a Sarzana Sarzanello anzi mi sembra dove aveva sede la sua famiglia poi questa ragazza si ammala insomma alla fine non se ne fa di nulla però eh si era arrivati ripeto abbastanza vicini eh effettivamente poi purtroppo eh tutti questi tentativi non servono a nulla eh gli imperatori Trebisonda cercano eh e ottengono altre alleanze matrimoniali perché diciamo nel tra le produzioni Trebisonda c'erano varie cose c'erano le nocciole si racconta poi appunto commercio e quant'altro ma soprattutto il prodotto tra virgolette più pregiato erano le principesse perché eh pare fossero le più belle del mondo no? Erano rinomate come ma stupende ma da tutte le parti eh in Asia in Europa anche questo poi darà il via a questo fiorire cavalleresco di Trebisonda come luogo incantato regno fatato queste principesse stupende bellissime e quindi cercano di creare alleanze proprio dando in moglie le loro figlie ripeto che avevano questa fama eh incredibile eh ci abbiamo anche tante testimonianze le riportano naturalmente nei libri viaggiatore occidentali eh che eh le vedono rimangono folgorati se le ricordano per tutta la vita leggende canti e mh e alcune di esse vengono date in moglie anche a signori anatolici signori turcomanni che eh in genere insomma garantiscono a queste principesse ogni agio e eh dovrebbero difendere i loro suoceri dai dalle mire degli ottomani cosa che poi in realtà non avviene e quindi nel 1461 Maometto II arriva con un esercito spaventoso enorme eh a Trebisonda superando tutti gli ostacoli supera le Alpi Ponti eccetera e a quel punto la città deve eh capitolare in sostanza c'è una deportazione di massa eh l'ultimo imperatore che si chiama Davide viene portato a Occidente eh inizialmente gli viene garantito tutto eh quindi viene trattato in maniera abbastanza diciamo rispettosa gli viene dato un appannaggio possedimenti e quant'altro però questo dura poco perché pochi anni dopo si dice per a caso di una corrispondenza sospetta che questo Davide teneva appunto con questi signori turcomanni e con eh appunto le sue le sue congiunte che erano andate loro esposa eh Davide eh viene sospettato di trame e cospirazioni e quindi viene portato a Costantimopoli e lì lui e i suoi figli vengono tutti decapitati e così diciamo termina eh la dinastia dei Gran Commeni in questo bagno di sangue che ricorda un pochino eh l'episodio tragico dell'assassinio dello zar e delle figlie notoriamente insomma nel nel secolo scorso infatti non a caso poi successivamente anche come è avvenuto per lo zar anche Davide e i suoi figli uccisi possono stati santificati insomma comunque hanno avuto questo tipo di riconoscimento eh finisce Trebisonda finiscono i Gran Commeni e inizia poi la leggenda appunto che eh avrà tutto questo questo spolvero che che abbiamo visto ecco nel seguito del libro appunto mi concentro molto su questa leggenda che ha tutta una serie di risvolti eh in ambito letterario anche e quindi appunto tutta una serie di poemi eh Cavallereschi il Rinaldo per esempio i romanzi di Amadigi di Gaula eh che trattano il Trebisonda ma poi ci avrà eh abbastanza buffo appunto eh curioso se non altro eh anche mh questa leggenda dei deportati genealogici perché appunto questi Gran Commeni in realtà erano erano stati uccisi tutti la linea maschile sicuramente eh discendenze in oriente eh gli sciad di Persia avevano una discendenza da parte di queste principesse eh ma eh in occidente dove in realtà c'era poco o nulla eh si comincia a fantasticare eh ci sono tutta una serie dei personaggi che inventano la come era avvenuto per lo zar con Anastasia inventano che fosse sopravvissuto un figlio eh del dell'ultimo imperatore degli ultimi imperatori Gran Commeni e dunque eh si arriverà a dire che persino Napoleone era un commeno come racconto. Beh che dire eh ai nostri ascoltatori io dico che non per non perdere la Trebisonda devono correre in libreria e acquistare questo libro di cui ricordo il titolo che è appunto Trebisonda l'impero incantato tra storia e leggenda appena pubblicato da Salerno editrice di Tommaso Braccini che abbiamo avuto il grande piacere di avere il nostro gradito ospite e che io ringrazio tantissimo. Grazie a voi. Mentre a tutti voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube dove oltre a questa troverete tutte le video presentazioni realizzate fino ad oggi. Di nuovo grazie e a presto. Grazie, grazie mille. Grazie mille. Grazie mille, grazie mille. Grazie mille. Grazie per la visione!